Sì, buonasera a tutti, benvenuti a questa tombola. Questa sera la tombola sarà di beneficenza per l'associazione Lotto contro l'infarto, questa che c'è qui di fronte a noi, che fa i controlli per il cuore, che è stata messa in piede dal professor Garmin parecchi anni fa. Siccome dopo il Covid sta riprendendo un po' l'attività, allora vediamo di dargli una mano con un piccolo finanziamento. Noi rappresentiamo la fondazione per la lotta contro l'infarto, che non è solo contro l'infarto, è semplicemente la fondazione per il benessere fisico di ogni persona, perché lottando per avere le arterie normali, sappiamo tutti che sono 100.000 chilometri di vasi. Se li teniamo in ordine, noi eviteremo circa dall'80 al 90% tutte le malattie, non solo l'infarto al cuore, non solo l'infarto al cervello, ma tutte le malattie. Quindi noi ci diamo da fare proprio, ma in maniera importante, perché sono 30 anni che noi come fondazione per la lotta contro l'infarto stiamo operando nella città e abbiamo visto circa 40.000 persone della città di Pesero e del circondario. Un grazie grande, grande, grande per questa partecipazione, perché tutti vogliamo vivere in salute e contemporaneamente, vivendo noi in salute, diffondiamo la notizia anche che tutti possono vivere in salute. e lo vogliamo fare proprio con l'intenzione di essere delle persone che vivono nella società e vivono per la società, perché una società in salute è un bene per tutti. Quindi questa è la cosa molto importante alla quale noi partecipiamo, alla quale noi tutti, noi che siamo qua questa sera, ma queste riunioni ne facciamo in giro un po' per tutta la provincia. Quindi grazie di cuore e cerchiamo di raccogliere qualcosa noi questa sera per far funzionare la fondazione in maniera efficiente, perché le persone che vengono in fondazione fanno tutto gratuitamente, però è chiaro che la fondazione per andare avanti ha bisogno di qualche aiuto, di qualche sostegno. Grazie di nuovo a tutti e buon divertimento per questa sera. Grazie. 81 70 44 38 25 54 54